È un periodo in cui si parla molto di anticorpi, gli anticorpi nei confronti del virus. Ma quali sono invece gli anticorpi nei confronti dello stato depressivo? A sperare della progettualità. Questo vale per chiunque. Anche lì non stiamo a pensare a chissà quali progetti, nessuno di noi è a Renzo Piano. Faccio una cosa che non ho mai fatto. Io penso che la gente non sia abituata a questo. Se io chiedo, fai una cosa che non hai mai fatta, vanno nel panico. Noi siamo, senza accorgerci, anche io probabilmente, siamo dei replicanti di cose che hanno fatto altri. Siamo diventati molto conservatori da questo punto di vista. Chiediamo sempre al nostro ospite di mettere una frase, una riflessione prima del punto esclamativo. Cosa si sente di dire agli italiani? Che dal dolore nasce il più grande dei pensieri, che è l'innovazione. Ciao! 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 Ciao!